Il 26 ottobre 2024 ho deciso di pubblicare un video sul mio canale youtube dove io andavo a commentare le run del Red Bull Rampage femminile mentre Daniel Valperta, altro mio amico youtuber, ha fatto una classifica delle ragazze in base alla loro bellezza secondo il suo parere soggettivo Chiedo scusa a tutte le ragazze nel video perché abbiamo usato questo video per oggettificare la figura della donna decontestualizzando proprio la loro immagine che dovrebbe essere valutata solo nel contesto di una gara di mountain bike Quindi con questo video voglio proprio chiedere scusa pubblicamente alle ragazze direttamente interessate nel video proprio perché abbiamo commesso un errore Il canale si chiama Torquato Testa e di conseguenza io sono responsabile di quel contenuto Detto ciò però ho deciso che sul canale non parlerò di un argomento di mountain bike del genere femminile a meno che in futuro non venga affiancato da una ragazza proprio perché non mi sento un bravo comunicatore di questo argomento e che sia chiaro non ho nulla in contrario allo sport femminile anzi mi piace un sacco vedere che ci sono anche le ragazze che progrediscono nello sport ma purtroppo ho capito che non posso esprimere il mio completo giudizio il mio libero pensiero perché nel momento in cui dovessi mai dire qualcosa che va al di là delle righe scatenerai la terza guerra mondiale come è successo in questo caso però siccome questo è il mio canale youtube voglio rendervi partecipi di che cosa è avvenuto veramente io pubblico sempre lunedì ho fatto come al solito ho pubblicato il video in due giorni dalla pubblicazione ha fatto 35.000 view e un centinaio di commenti il mercoledì poi sono andato a fare motocross adorno quando stavo tornando dalla mia bella motocrossata riapro la sezione dei commenti di youtube di quel video e improvvisamente vedo 135 commenti qua ho detto cavolo forse sta ripartendo il video invece vado sotto leggo tutti i commenti altamente negativi di ragazze improvvisamente cosa che mi ha stranito parecchio perché solitamente dopo i primi due giorni i video non generano più tanti commenti tante visualizzazioni il boom ce l'hai all'inizio ora però immaginatevi che questo video proprio non vi va giù già torquato testa non lo sopportate avete un rancore dentro che vi portate dietro da anni per non si sa quale motivo e avete voglia di scatenare qualcosa sapete che cos'è una shitstorm? fenomeno di gogna mediatica organizzata per colpire una persona organizzazione o un'azienda su social media ed altre piattaforme ed intaccarne la reputazione questa ondata di messaggi è stata creata proprio per fare uno shitstorm sul mio profilo quel messaggio che avete visto è stato inviato su un gruppo di whatsapp un gruppo di ragazze chiamate bike hair che per di più si identifica anche sulla piattaforma facebook con il medesimo nome questo gruppo di ragazze quindi hanno ben pensato di non dare prima il mio video di youtube di commenti e organizzandosi hanno mandato la stessa shitstorm a vari profili di instagram o facebook o dei vari social media e gliene faccio una colpa per quello che hanno fatto? no, sto solo raccontando i fatti il risultato è stato devastante il video non era in inglese, era in italiano avendo anche un titolo, una copertina clickbait hanno subito riscosso clamore nel pubblico internazionale che giustamente ha pensato subito male sul video nessuno però è andato a vedere il video soprattutto la loro opinione è stata condizionata dal tipo di messaggio che è stato inviato in breve chiaramente si è generato interesse anche da parte dei miei sponsor subito uno dei primi che mi ha scritto è stato il mio sponsor di bici NS Bikes il manager mi ha chiesto cosa fosse successo perché avevano ricevuto questi messaggi la mia spiegazione è stata esattamente quella che ho fornito a voi io ho commentato le rande le ragazze il messicano ha valutato le ragazze per il loro aspetto estetico lo stesso manager mi ha mandato qualche messaggio dicendo che comunque al giorno d'oggi bisogna stare attenti a quello che si pubblica e che comunque purtroppo non si può più dire niente e la conversazione è finita lì e tenete bene a mente questa chat di whatsapp perché è importante per il racconto ma comunque vedendo anche la loro preoccupazione ho deciso di rimuovere il video per evitare polemiche inutili o comunque possibili ripercussioni per i brand che sono attorno alla mia immagine però ragazzi i social non vi perdonano se voi pubblicate anche solo per un secondo una cosa è online e non si torna più indietro spoiler ho perso anche due sponsor ho commesso io il danno mi prendo quello che c'è da prendermi ma rimango assolutamente basito da tutti quei rider, giornalisti, fotografi che ho conosciuto dal vivo e che si sono sempre dimostrati quasi amici sorridendomi sempre salutandomi con baci e abbracci poi in questo momento cosa fanno? post, storie, commenti pubblici assolutamente denigratori nei miei confronti senza avermi scritto neanche un messaggio privato credo solo per accimolare qualche like dato da questa mia fama negativa che si era creata maggior parte di queste persone ripeto non hanno visto il video e non parlano italiano se non hai visto il video non puoi esprimerti ma seconda cosa se non sei il diretto interessato perché devi aggiungere odio a una situazione già complicata? vedere il post di Brett Tippie pubblico sulla sua pagina giornalista della mountain bike che quando mi vede ah l'italiano in mille versi per salutarmi in mille battute senza fare riferimenti al tipo di battute che fa di solito Brett Tippie e poi nel post scrive che lui si sente assolutamente disgustato dal mio video senza averlo visto e mille altre menate ripeto sono responsabili del video ma non ho giudicato le ragazze io proprio perché so che ho un'immagine d'atleta non posso farlo per chi non lo sapesse l'ha dichiarato anche lui nelle sue interviste Brett Tippie è un ex cocainomane e poche settimane prima di questa vicenda aveva pubblicato un post dove diceva di essere alcol free quindi in passato ha fatto anche lui i suoi errori per questo l'abbiamo condannato? no vi faccio un altro esempio internazionalmente il sito più famoso di bici è Pinkbike in Italia il più famoso è MTB Mag storico giornale che io ho sempre apprezzato eppure ho visto articoli e soprattutto commenti di chi gestisce questo giornale volti secondo me sempre ad alimentare semplicemente l'odio ma leggiamone qualcuno per contestualizzare vi siete mai chiesti come mai Torquato non sia un rider Red Bull? avrebbe tutte le caratteristiche per esserlo eppure il massimo che fa con loro è commentare le dirette in italiano forse dimentichi che non vivi nel 1920 ma cent'anni dopo un po' come il protagonista della news che stai commentando che crede che il mondo sia l'Italia con l'uomo che reputa tutte mignotte tranne sua madre e lo può dire in pubblico senza problemi oh direttore direttore nei commenti ribadisce che io proprio non ce la faccio a stare lontano dai social ma è lui stesso che non riesce a trattenersi dal commentare i suoi stessi post con commenti assolutamente denigratori e poi gli stessi direttori di questi giornali vengono però a far girare i loro figli qua al Monza Pizza Bike Park ma torniamo a noi come mi hanno lasciato i miei sponsor Industri9 in pochi giorni ha subito preso le distanze e ha mandato assolutamente senza preavviso e senza alcuna chiamata un comunicato con una mail dicevano che il contatto terminava perché il video non aveva rispettato i valori di Industri9 frase finale nella mail non vogliamo nemmeno avere un confronto per questa cosa sette anni che promuovo Ruot Industri9 sono liberi di fare questa cosa ma io reputo che i brand sono fatti da persone e tra l'altro volete saperla tutta? stavo sentendo anche i miei colleghi dello Slopestyle abbiamo un gruppo di Whatsapp e gli ho detto che purtroppo avevo terminato la mia partnership con Industri9 altri due atleti hanno detto sì però anche noi ci hanno lasciato a casa quindi è vero che loro si sono dissociati a quello che ho fatto ma secondo me potrebbe essere semplicemente un pretesto il mondo della mountain bike è in estrema crisi e chiaramente hanno colto un po' la palla al balzo magari per uscirse neanche diciamo prendendosi qualche follower in più ma ragazzi passiamo alla parte succosa NS Bike vi ricordate più o meno all'inizio che vi ho detto che avevo parlato col manager di NS Bike che bene o male su Whatsapp mi aveva rincuorato ora vi faccio capire come funziona il mondo è passata una settimana da quando ho fatto uscire il video e già due o tre giorni da quando Industri9 aveva pubblicato la notizia al termine del contratto e di conseguenza anche tutti i messaggi tutta un po' la shitstorm che si era creata praticamente era già svanita nel nulla e io infatti ero abbastanza tranquillo ho detto vabbè è finita così il lunedì successivo a mezzogiorno improvvisamente però mi chiama il manager di NS Bike che mi dice guarda che a breve riceverai una mail dai superiori però non so cosa dicono nella mail lui era un po' tutto agitato o concitato infatti mi ha subito stranito questa chiamata e gli ho detto in che senso no perché sai stanno discutendo di quello che è successo e comunque in mezzo c'è stato il weekend quindi era festa io gli ho detto subito mi stai anticipando che probabilmente termina il contratto no no non so assolutamente che cosa sta succedendo so che stanno facendo adesso la riunione avevo già fiutato lontano un miglio arriva chiaramente poi mail con lettera di NS Bike hanno deciso di terminare il contratto con una mail e un comunicato tanto che io mi sono veramente stranito e ho risposto chiaramente a questa mail anche NS Bike come ho fatto con Industri9 ho scritto una risposta dicendo non voglio farvi cambiare idea mi piacerebbe organizzare una chiamata di chiarimento risposte a questa mail zero e tutto ciò è avvenuto intorno al lunedì a mezzogiorno ecco passa il pomeriggio io già li ero vabbè molto preoccupato chiaramente per quello che stava succedendo ancora però ero fiducioso che comunque mi avrebbero ricontattato comunque almeno una chiamata cioè ho mantenuto viva la speranza invece alle 7 di sera mi arriva un messaggio dall'editore giornalista di Pink Bike che mi scrive Torquato abbiamo saputo da NS Bike che il tuo contratto è terminato in anticipo tra 5 minuti esce l'articolo su Pink Bike vuoi fare una dichiarazione? totalmente sconcertato tanto che ho scritto subito al manager di NS Bike dicendogli ma voi avete veramente comunicato questa cosa a Pink Bike senza rispondere al vostro atleta prima? mi sembra assolutamente non professionale come cosa risposte fino alla mattina successive? zero la mattina successiva il manager mi ha semplicemente detto noi non abbiamo detto niente non abbiamo messo niente sui nostri social e qui attenzione alle parole che ho usato però è nostra responsabilità rispondere ai giornalisti e io chiaramente gli ho risposto è vostra responsabilità rispondere ai giornalisti ma sarebbe anche vostra responsabilità rispondere agli atleti che avete supportato e che hanno promosso la vostra azienda fino a quel momento quindi capite che io non sto biasimando le scelte che hanno fatto che sia ben chiaro perché l'azienda se si è sentita lesa da qualsiasi cosa io ho fatto è giusto che si sente in diritto di distaccarsi perché siamo due cose separate e tra l'altro sono anche un'azienda è una collaborazione ma tu NS Bike non puoi denigrare la mia immagine con un articolo su Pinkbike senza prima confrontarti con me sapete qual è il logo di NS Bike? è Stay True che vuol dire rimani vero io sono rimasto vero ma secondo me voi negli anni non siete rimasti veri ora per concludere il discorso ho fatto questo video non per generare altro odio non vi chiedo di andare a iterare che siano quel gruppo di Facebook o i brand non voglio niente di tutto ciò io ho fatto questo video per sensibilizzare le persone ho voluto mostrare la verità che è apparsa ai miei occhi per creare un mondo più sano e meno finto in particolare da questa esperienza io ho proprio percepito sulla mia pelle che i social possono fare veramente male in questi giorni ragazzi ho toccato veramente un fondo di depressione che non avevo mai provato nella mia vita per un attimo credevo veramente di aver perso tutto e non credevo nemmeno più in me stesso perché mi sono fatto sopraffarre dalla miriade di commenti di odio che ho ricevuto per fortuna non ho un carattere debole sono riuscito a rialzarmi per far valere veramente chi sono ma vi assicuro che una shitstorm del genere può portare veramente a pensieri estremi soprattutto a persone che magari sono già debole di loro ah poi giusto ho sentito dire da certe persone che mi sono bruciato la carriera sapete che io non lo credo proprio perché io so di avere un canale bellissimo di mountain bike con persone altrettanto belle che mi seguono e mi supportano al massimo l'insegnamento che abbiamo preso tutti da questa situazione è che giocando con il fuoco ci si scotta e ricordatevi stay true ciao ciao Grazie a tutti.